Va bene così, aspira a fondo, aspira a fondo, bene, aspira, perfetto, come il primo conto è numero 3, numero 3 chiederai spontaneamente gli occhi tranquillamente, 1, 2, 3, molto bello, tranquilli di stessa, perfetto, ora puoi sentire, puoi percepire i muscoli del tuo corpo che diventano duri e rigidi, duri e rigidi, completamente e totalmente duri e rigidi, duri e rigidi, perfetto, sempre di più, duri e rigidi, tuo corpo è duri e rigidi, duri e rigidi, sempre di più, sempre di più, sempre di più, in un stato di mano, perfetto, muovendo bene, duri e rigidi, Dura e liquida, completamente dura e liquida, perfetto, molto benedetto, dura e liquida, molto bene, perfetto, ora Erika al mio via, alzi la gamba destra, via, la gamba destra si alza, bene, giù, grazie, ora Erika, alzi il braccio sinistro, via, perfetto, giù il braccio sinistro, bene, ora Erika, alzi la gamba sinistra, via, Bene, molto bene, fermo, senza sforzo, senza fatica, perfetto, giù, la gamba sinistra, Molto bene, bene, mettiamo in piedi di Erika, sposta la gamba, sposta la gamba, sposta la gamba, Molto bene, ora, conto al filo numero 5, è la numero 5, aprirai gli occhi, sentirei bene, forma tranquilla, allegra, contenta, 1, 2, 3, 4, 5, aprirai gli occhi, perfetto, Grazie.